Quinto colpo del calciomercato del Napoli scatenato in entrata perché Neuwen Perez sarà un nuovo giocatore del Napoli Like, iscrizione e campanella per questo video, seguitemi sui social, Instagram, JohnGamerGamerGaming TikTok, Geron DJ Juve, pubblicherò qualcosa, mi inventerò qualcosa Seguitemi sul canale di Gaming, JohnGamerGaming, non pubblico tanto in questo momento ma ritornerò a pubblicare Detto questo, detto questo regà, Neuwen Perez al Napoli, vi dirò statistiche, la mia opinione personale e un paio comunque di dati Un paio di dati, le sue caratteristiche tecniche, la formula eccetera eccetera Fate ovviamente sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione, mi raccomando scatenatevi nei commenti Detto questo direi che possiamo comunque partire immediatamente Neuwen Perez al Napoli, formula, la formula è semplicissima 16 milioni più 2 di bonus in totale 18, contratto di 4 anni sembra Quindi contratto di 4 anni 18 milioni di euro Secondo voi la cifra è alta o è bassa? Secondo me è giusta perché le sue caratteristiche tecniche migliori sono sicuramente i duelli vinti Sicuramente sono anche i contrasti vinti, contate che è un difensore centrale Che ha giocato sia all'Udinese al 90% delle partite in una difesa 3 Ricordiamolo, per chi non lo sapesse, Neuwen Perez, difensore argentino, alto 1,86 m all'Udinese L'anno scorso titolare inamovibile, 34 partite stagionali utilizzato sempre da Sottil Due gol tra l'altro su palla inattiva se non vado errato Quest'anno sta giocando sempre 21 partite E nel primo anno in Serie A 21-22, 20 partite Quindi Neuwen Perez è stato sempre uno che ha giocato, ha giocato anche in Liga al Granada E' stato scovato dall'Argentino Junior, dall'Atletico Madrid Tra l'altro Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, il ciolo Simeone stravedeva per Neuwen Perez Si parlava anche di un'erede di Godin Comunque in Spagna si parlava di Perez come erede di Godin Soltanto che alla fine l'Atletico Madrid non ha più creduto al calciatore L'Atletico ha una clausola della rivendita del 50% Dunque ricaverà la metà dei 18 milioni dati al Napoli, cioè 9 L'Atletico comunque era scovato da un club argentino Simeone stravedeva per lui, ma essendo che l'Atletico giocavano difensori più forti Alla fine è stato ceduto all'Udinese Al primo anno comunque si è fatto le osse in Serie A Già dal secondo ha dimostrato di essere un bel calciatore E al terzo si sta fermando Ha giocato come dicevo prima in una difesa anche a 4 Oltre che in una difesa a 3 Mazzari vedremo se passerà da una difesa a 4 A una difesa a 3 Oppure se rimarrà con la difesa a 4 È tutto un po' complicato La stagione del Napoli è tutta complicata Riga, sono stati acquistati tanti calciatori De Laurentiis sta finalmente spendendo Però tu vuoi anche acquistare chi vuoi Però poi se i risultati non li ottieni Eh, ti trovi veramente in una situazione brutta Perché gioco o non gioco nel calcio contano i risultati Contano quelli ragazzi Contano quelli, specie per il Napoli in questo momento Fuori da tutte le competizioni praticamente Fuori dalla Champions, fuori dall'Europa League Con questi acquisti il Napoli sta provando a rimettersi in carreggiata per la Champions E non ha acquistato un giocatore banale Perché dovete sapere anche che L'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni L'aveva due anni fa Un anno e mezzo fa Messo nella lista Inserito nella lista Dei pre-convocati al Mondiale Come ben sapete No, prima delle convocazioni effettive Formata da dei calciatori C'è una pre-lista, una sorta di pre-lista C'era anche Neuan Perez Compariva Neuan Perez Poi chiaro al Mondiale sono stati scelti altri calciatori Perché sono di più forti Romero, Otamendi eccetera eccetera Ma comunque finire nella lista Pre-convocata al Mondiale È un gran riconoscimento Scaloni mica è scemo L'Argentina ha vinto comunque il Mondiale Quindi anche da queste indicazioni Perez è veramente forte E tra l'altro Vi devo dire che guardando Spulciando su Soccer Mentre su FBRIF Migliori siti di statistica Mi avviso Sofascore Ho trovato veramente pochi punti deboli Io comunque questa stagione Ho visto delle partite dell'Udinese Ho visto anche la più recente contro il Milan Non mi ha impressionato Come per esempio un Calafere del Bologna Mi è sembrato un buon giocatore Nulla di eccezionale È uno grintoso Uno molto aggressivo Uno molto energico Uno cazzuto Per usare un termine napoletano Uno cazzuto Che è un po' di cazzimma Ecco quindi È un difensore Diciamo Vecchio stile Sa comunque Impostare Bravo con la palla A qualche punto debole Proprio centrale Ecco Dei tre Nell'Udinese Lui gioca proprio al centro Fisso al centro Questa trattativa In realtà Era già da un po' di tempo Che c'era Napoli inizialmente offriva 10 Bar 12 milioni L'Udinese Pretendeva comunque Qualcosa Siamo arrivata Siamo arrivata Alla conclusione Alla chiusura Per 18 milioni di euro Che non mi sembra Una cifra né alta Né troppo bassa Allo stesso tempo A mio avviso Con per gli anni Il 24 giugno Un passo di un mila 23 anni Quindi stiamo parlando Ripeto Di un calciatore giovane Per l'Udinese Secondo me E' una grande perdita Perché perdere Neuen Perez In questo momento Secondo me E' assolutamente Un qualcosa di Molto pesante Qualcosa di molto pesante Perché era uno Dei migliori calciatori Dell'Udinese Insieme probabilmente Alla Sar Samaric E Mentre per il Napoli Si tratta di un acquisto Si tratta di un Di un difensore centrale Che arriva Nathan si è infortunato E' arrivato anche Den Donker Che può giocare Eventualmente come centrale Però il Napoli Sta spendendo tanto Sta provando Comunque a rimettere In piedi Anche se rimettere In piedi In termini Troppo forti Tra virgolette Sta provando Più che altro In tutti i modi Per raggiungere La Champions League Dell'Arentis Sta insieme Chiaramente i dirigenti Stanno acquistando Calciatori Si Però dipende Anche come Si integrano La fortuna Nel Napoli E' che Perez In condizione Perché gioca Veramente sempre Conosce il campionato Parla L'italiano Quindi questi Secondo me Sono tre punti positivi Sì ok Sotto media Per completamento Dei passaggi Però Anche lì Non è sotto Media di tanto Sia a morire Con i numeri Ho trovato Veramente pochi punti Deboli Da questo E' più che valido Transfer Market Lo valuta Intorno A 18 milioni Di euro L'Udinese È arrivato Nella stagione 21-22 Poi l'Udinese Nella scorsa stagione Lo ha ripreso Di nuovo Dall'Atletico A Madrid Perché comunque Ha garantito Delle prestazioni Importanti Già lo scorso anno Quest'anno Secondo me È migliorato Ulteriormente È chiaro Non sarà un fenomeno Su questo Siamo d'accordo Però Il fatto Che è stato Comunque L'anno scorso Inserito Nella lista Preconvocata Il mondiale Il fatto Che Scalone Lo apprezzava Particualmente Simeone È stato stregato Dal cacciatore Sottili Lo utilizzava Sempre Cioffi Lo utilizza Sempre Gotti Lo ha utilizzato E' un giocatore Che comunque Anche fisicamente Non ha mai avuto Grossi infortuni Quindi Secondo me Qualità Prezzo Considerando Il prezzo Che è stato pagato 18 milioni E' considerando Anche la qualità Del cacciatore Io ho questo A fare Do 7 Do 7 È chiaro Giocare al Napoli Un'altra cosa Perché all'Udinese Non dico Che non ti considererà Nessuno Ma le pressioni Sono differenti All'Udinese Molta meno pressione Mentre invece Al Napoli Ne è molta Molta Di più Chiaramente Viene giudicato A Napoli Per una partita Mentre l'Udinese Invece Ha un ambiente Decisamente Più tranquillo Secondo me Era Era già pronto Al grande salto Qualche mese fa Forse non proprio Da 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 Napoli Però è sicuramente Uno che può giocare In squadre In squadre forti In squadre forti L'Udinese Secondo me Non è la sua dimensione Per quanto è forte Il calciatore Visite mediche Tra le altre cose A breve E nulla Io penso di aver detto Tutto Vi ho fatto vedere Altre statistiche E noi Ci vediamo Tra un paio di ore Con il post party Del Cagliari di Torino Questo video Non so quando Lo vedrete Se alle 7 Alle 13 Non ho idea Però Vabbè Lo vedrete Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi